Entusiasmo Interessante Sicuramente utile Un grandissimo strumento per tutti È un po' come decidere noi cosa vogliamo cucinare Fare la spesa e decidere come mescolare gli ingredienti Piuttosto risederci a tavola e mangiare quello che qualcun altro ha deciso per noi Il menù lo facciamo noi Curioso Illuminante L'esperienza utile, interessante Originale Un'altra bella iniziativa che spero di riuscire a sfruttare Un'occasione per attivare dell'energia Ragazzi giovani che ci credono e hanno voglia di fare, di realizzare un progetto divertente Non lo so, forse può essere eccessivo, ma io direi rivoluzionario Innovativo e mi ha arricchito tanto Entrare in contatto con expert di rivoluzione nazionale Su argomenti che probabilmente se non fosse stato per l'operatore dal basso Non avrei potuto approfondire come avrei voluto Sarà un'opportunità di realizzare il nostro sogno Partecipazione e condivisione di competenze nel territorio, per il territorio E per crescere individualmente e insieme Stimolante Crescere insieme al mio territorio Ottima esperienza, piacevole realizzarla, molto efficace Percorsi nuovi in territori che magari questi percorsi non li hanno mai conosciuti Cinematografico, poi vedremo